Paolo Malara, finalmente si riparte? Si riparte dopo un mese e mezzo di preparazione e dopo una bella stagione passata speriamo di iniziare col piede giusto e fare un bel percorso questa stagione che non sarà sicuramente facile, però abbiamo le possibilità di fare bene fare bene e speriamo di salvarci, di mantenere la categoria e poi vediamo cosa strada facendo, cosa succede bisogna salvarsi, continuare a lavorare come stanno facendo i ragazzi già dall'anno scorso, non da quest'anno, ma già dall'anno scorso stanno facendo passi da gigante sotto tutti i punti di vista è logico che il pensiero è sempre per migliorarsi e per cercare di fare ancora meglio del passato però non è scontato, bisogna essere vigili, rimanere con i piedi per terra lavorare e vedere di riuscire a fare qualcosa di importante Avete cambiato molto rispetto alla passata stagione? Abbiamo cambiato molto, ci sono tanti giovani nella squadra speriamo che ce ne siano sempre di più ma partiamo da un nocciolo duro della squadra che è un nocciolo duro molto importante non nascondo che sono anche io molto eccitato di vedere cosa riusciamo a fare abbiamo una società forte dietro che ci sostiene, ci sopporta e penso che questa sia la cosa importante spero che le basi che abbiamo gettato l'anno scorso con il pubblico pescarese quest'anno qua, dopo sei mesi di chiusura delle Naedi speriamo di trovare ancora più entusiasmo e cercare di riempire la piscina grazie